Domenico Sabatino, che cosa fa lei di solito? Segue il calcio? Certo, come no? Io proprio lo seguo, guardo le partite, guardo la televisione e ammiro soprattutto le cosce dei calciatori. Ah, solo per questo? Sì, sì, no, comunque a parte lo scherzo, io volevo ricollegarmi il discorso dei ragazzi stanchi, sui stanchi picciotti, veramente lavorano troppo, troppo della mattina alla sera. Per cui mi raccomando, appena finite i partiti venite da me che sono pure massaggiatrice e risolvo tutti i problemi di questi problemi di dolori che avete. Va bene, Gioia? Che dice lei? Ma questo lo dice lei, il signor Domenico non è che... Va bene, va bene. Sai che le partite sono anche di domenica, quindi lei si chiama così, quindi... Ecco lì, ogni giorno, sì, sì, sì. Bene, perfetto.